Allora, sta girando da un po' un video su TikTok, o almeno alcuni, ne ho visto uno in particolare, dove fa vedere appunto queste tipe che ballano, diciamo, nel The Ring, e praticamente qualunque canzone gli metti sottofondo, cioè stanno bene con tutto, nel senso che vanno al ritmo con tutto, il balletto che fanno è questo qui, e il posto è Pascola, Molino, Vento, Est, unica cosa non vi avvicinate troppo, perché se no vi fanno fuori. Ecco questo è il balletto, vi dico il punto esatto. Allora, praticamente ci troviamo all'altopiano di Altus, questa è tutta la zona, ci si arriva un po' ovunque, e la zona è questa qui, il punto esatto è questo, per chi fosse interessato a scoprire dove si trovano queste tipe che ballano, che stanno spopolando su TikTok. Questo è tutto per il video di oggi, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Alla prossima!